Oggi facciamo il sorbetto al cocomodo. No! Facciamo il sorbetto. No! Fa provare 500 di cocomodo senza semi, poi tagliate dai pezzettini e la mettete dentro una ciotola. Quando è cogelato mettete fuori da pizze. Aggiungiamo il sorbetto e un po' di zucchero. Zucchero! È in petto! Giorno! La ciotola è come piaccato. Siamo l'olico! Studiare il tuo libro! Grazie a tutti. Grazie a tutti.